Volevo ringraziare tutto lo staff e la direzione della Salvador Mundi che mi ha ospitato in maniera eccezionale. Sono stata molto coccolata e soprattutto vedere un personale sempre sorridente con un'assistenza impeccabile è stato meraviglioso. Anche il dolore si è sopportato bene perché tutti avevano dei sorrisi meravigliosi. Grazie, grazie a tutti.